Allora, Notte Leonardo, noi ci facciamo una bella gacchierata io a lei. Comandante, per prima cosa mi lasci dire che il suo zelo è molto apprezzato. Da me e dal governo di cui faccio parte. Lei non fa parte di nessun organigramma di governo. L'abbiamo controllato. Ufficialmente no. Ma se mi fa fare una telefonata... Mi fai chiamare Berlusconi? Sì. O il capo della polizia. O il ministro degli interni. Tutti riconosce, eh? E il caso vuole che sono tutti a Napoli in questo momento, nel mio stesso aldebo. Per il summit che io ho contribuito a fare mettere in vieto. Contro la criminalità organizzata, certo. E che cosa ci faceva a casa di un camorrista? Ero lì per caso. Non so nemmeno come si chiama. Felice Romano si chiama. Presunto affiliato del boss Carmine Martuscello. Adesso è dentro per tentato omicidio dopo che... Ha ridotto in fin di vita un povero commerciante perché non pagava. Lei che cosa ci faceva per caso a casa sua? Mi ascolti? Lei sta facendo... No, adesso mi ascolti tu! Ci sono da due a otto anni per incettazione. È chiaro? Lo sai? Di ci sono da due notizie. Grazie.